Ha tamponato un camion con la sua auto, una tragedia che è avvenuta alle prime luci dell'alba in autostrada 4 nei pressi dell'uscita di Cessalto. La vittima è un giovane 33enne, Diego Inversi, avrebbe compiuto 34 anni a maggio, sportivo, amava la pallavolo, aveva militato in diverse squadre della provincia di Pordenone. Questa stagione giocava in prima divisione a San Vito al Tagliamento. La dinamica della tragedia al vaglio della polizia stradale, l'uomo era la guida di una Volkswagen Golf, ha raggiunto e tamponato per causa ancora al vaglio delle forze dell'ordine un'auto articolato. L'auto è rimasta incastrata sotto il semirimorchio, Diego è morto sul colpo, sul posto sono arrivati i soccorritori, il medico del suo M118 che ha constatato il decesso dell'uomo e di vigile del fuoco per restare il corpo del friulano. L'autorità giudiziaria che procede sulla caduta è quella della procura di Treviso, forse all'origine del grave incidente potrebbe esserci un colpo di sonno o un malore. Diego Inversi, oltre a giocare a pallavolo, la sua passione aveva ereditato dalla mamma l'attività, una lavanderia dove lavorava da tempo. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei mezzi poco dopo le 8.30.